Governatore Federiga, questa notte è mancato Ettore Romoli, un uomo che ha segnato la vita politica di questa regione e anche dell'Italia. Qual è il suo ricordo? Non è mancato soltanto il Presidente del Consiglio, ma è mancato un amico. Ettore è stata una persona che mi ha insegnato molto, mi ha insegnato con i fatti, con le parole, essendo un grande amministratore locale, ha amministrato benissimo il Comune di Gorizia, ha dato lustro al nostro territorio a livello nazionale, avendo fatto il parlamentare ed è stato riconosciuto in modo unanime come persone di estremo spessore, imparzialità e voglia di lavorare per la nostra comunità. Infine come Presidente del Consiglio regionale, con anche la precedente esperienza che ha avuto a livello regionale, ha voluto rimettersi a disposizione del Friuli Venezia Giulia, non soltanto del suo territorio, che era quello di Gorizia, per portare la sua esperienza al servizio della nostra comunità. Purtroppo una persona di questo spessore che viene meno, non credo ci siano parole per raccontare ovviamente il dolore e il dispiacere nel perdere Ettore. Mi auguro che in questo momento tutti abbiano quel dovuto e rispettoso silenzio per ricordare Ettore, per ricordare la sua persona, la sua storia ed anche penso sia quello che avrebbe voluto, ovvero un silenzio istituzionale che tenga parole al vento legate a se stessi e invece faccia vedere all'esterno il rispetto che bisogna avere verso un Presidente del Consiglio regionale che tanto ha dato alla propria gente e sono convinto tanto da rancora per gli insegnamenti che ci lascia.